Fisicamente sto bene, ho ripreso. Di certo manca un po' di minutaggio, un po' di ritornare in forma perché per quello serve un pochino di tempo, però la squadra la vedo bene, l'ho vista bene le ultime partite. Peccato per i punti perché stiamo portando a casa meno di quello che forse abbiamo meritato in ultime partite e da ora in poi sarà fondamentale fare i punti. Ci è mancata la giocata finale, il cross giusto, la conclusione, il passaggio finale, questo ci è mancato perché poi abbiamo concesso pochi, abbiamo creato abbastanza perché comunque rivedendo anche la partita siamo stati spesso nella loro metà campo, spesso con cross eccetera, quindi dobbiamo migliorare su questa cosa qua, sulla finalizzazione, sull'ultimo passaggio. Una bella partita aperta, loro penso dovranno vincere noi anche, per entrambi è importante soprattutto per la fiducia, quindi ci aspettiamo una partita, una bella partita aperta, aspetto dei gol.